la puntata di ieri di affari tuoi ha visto come protagonista fabio un pacchista del lazio noto come metro a insieme a sua moglie ha affrontato la sfida del dottore rendendo il gioco ancora più avvincente fabio ha subito pescato diversi pacchi rossi di alto valore mettendo alla prova la sua determinazione e strategia nonostante le difficoltà iniziali fabio ha rifiutato la prima offerta del dottore dimostrando audacia ha continuato a giocare eliminando pacchi blu e mantenendo quelli rossi di valore il dottore ha fatto offerte sempre più allettanti ma fabio e sua moglie hanno mantenuto la loro posizione rifiutando anche i 20.000 euro proposti più volte la tensione è aumentata quando fabio ha dovuto scegliere tra 0 euro e due pacchi rossi uno da 75.000 euro e l'altro da 20.000 euro convinto che il dottore stesse attuando una strategia ha accettato l'offerta ma ha pescato lo zero lasciando il pacco da 75.000 euro in gioco nonostante il finale amaro fabio ha portato a casa 20.000 euro dimostrando che la fortuna può sempre sorridere in conclusione la puntata ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso tra emozione e delusione per il colpo di scena finale fabio ha dimostrato coraggio e determinazione ci affrontando le avversità sia il tarc anzo a caso ma significativa la fortuna infine ha giocato un ruolo importante confermando 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 Grazie a tutti.